Il Bambino John, svegliati! Che c'è? È il Bambino? No, i vicini. Ho sentito urlare. È successo qualcosa. Resta qui, vado a vedere. Mio... mio marito torna subito. E prendi tutto quello che vuoi e... e va via! E va via! E va via! E va via! E va via!